Sì, però è bella sta fonte, mi piace. Sì, però è bella. Non c'è niente, ne? Sì, sì. Ok. Sì. 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 e sbarre in 2D 2D sono, guarda che cosa 2D e poi sono piantate più come se fosse ahahahahah andiamo lo stesso negli uffici ah la mensa si si andiamo a vedere pure di la e com'è sto mangiare qua? hai visto il mangiare che ci sta qua dentro? ahahahahah ma che roba è? ti ha muffito qua c'erano zubi che stanno in bas mi sa che va in bas diamo l'attenzione niente non si sm- no niente da qui il proiettile fa la cuva gira c'erano i miei rettangolari qua vedo oltagolari ah si poteva pure pagare col banco guarda c'è il... il coso del banco ahahah c'è una cartuccia qua axel prendila tu prima l'ho presa io ah no ok ahahah e c'è qualche arma io ho sentito, avevo tre colpi l'altra da destra eh, pure io fuck, this door is locked so is not no, mi sembra che non ci sta più niente oh, guarda che case qua, che è una big tower questa guarda che roba, una big tower oh, sta sedia qua non si è posta, è piantata nel fai di vento, guarda che roba che da fa? non si è posta qua c'è il computer con sti vedenti axel, coprimi un secondo va, che c'è il gatto che mi ha, che mi sa che vuole la pappa va ok ok ah 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 Ehm, penso di no. Come la vede di qua se c'è qualcosa? C'è che questi qua di... ...di mandato... ...di mandato un bel like. Un computer che non prenderei mai. Un sacco di soldi e... ...ci puoi fare un'altra. Ehm, infatti. Piuttosto rimango senza chiede, piuttosto. Chiaramente un sacco di soldi costa. Sì sì, no, ma guarda... Ehm, è giusto... ...c'è una cosa che secondo me è estetica. Perché è bella l'estetica, solamente. Secondo me è di quei cosi dì. Sì, alla fine però... ...essere. Eh, infatti. Sono completo alla fine se stesse praticamente. Sì. C'è niente? Ma ho trovato... Guarda, in queste tre stanze qua, solamente una cartuccia ho trovato. Cioè, la cartuccia l'ho trovata dentro la danza del Vata. Non l'ho trovata. Allora. Ok. E' la torcetta. Cazzo me ne faccio la torcetta. Non ho trovato proprio niente. No. Wow. Dalla. L'agriccione. Ok. Sì Che picciano qua che ci sta Ah delle munizioni La bomba del EF Prendela Dentro qua c'è il libro di MoPT Sì sì, il mattone Guarda qua c'è il libro di MoPT E questa qua è la postazione che dovremmo avere tutti quanti Giochiamo tutti in questa stanza Sì sì E allora dobbiamo andare di qua Sì sì La strada dei topi stiamo qua in Oh ho Whatever Whatever Ah, è messaggio You should Ahahahah Ah, siglette Ahahahah Prova della palla, fasta Alla storia Sì Ahahah ahahahhahahahaha ahahahah ok se torniamo indietro lo fa entrare come sorvore spero di sì proviamo a vedere solo che adesso a spiegare in più come è dato che le persone semplici che mappa è? beh è una nuova mappa l'unica cosa ah quella è la biotech dalla partita speriamo di sì noi adesso come facciamo tra l'idea ma non mi chiede la password ah e ora sì eh già possiamo tornare vediamo ora se tramite il cellulare vi becco vabbè entra la porta di ingresso principale aperta aspetta che ancora sto in caricamento senti no a allora guare staiolo occhio tanto entro dall'entrata principale se dentro la porta in fondo a sin ahahah aspetta entro sono all'ingresso principale ok vai di fronte sempre di fronte ok vai a destra c'è un ascensore prendi la scala ascensore ok la scala aspetta no deve pigliare la botola è vero la botola è vero puoi entrare le misure della sala ok aspetta che salgo poi il primo ufficio che ti trovi sulla destra c'è un condotto sono salito sulla botola scendo dall'ascensore e il primo ufficio a destra a destra a sinistra no 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 quello dopo quello dopo il secondo secondo eh ma io sono sceso nell'ascensore però c'ho due due stanze a sinistra c'ho ecco ah e allora una di quelle vai nell'ultima a sinistra non la prima ok nell'ultima dovresti vedere io ti sto facendo la torcia io non posso salire perchè guarda ah ci sta una botola ok ci sono cucù ecco un pizzaiolo guarda eh 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 ok siamo è buona sedia oh professor ma che sono bello allo specchio ok dov'è che è oh professor oh professor oh professor un pizzaiolo ma dove e che è sta palestra no no è bella sta macchina hai visto questi muffin perché sono colorati i muffin ok adesso non mi ricordo più dove di andare giù sì o giù o sopra eh qual'è la missione di sto posto oh guarda sto zombie buggato ah sì è in mezzo la ringhiera toglielo di mezzo se vuoi eeeh dobbiamo entrare giù nei laboratori eeeh prendere cos'è che erano axel e delle le cose eeeh i vaccini la ah hanno trovato finalmente un vaccino andiamo giù vediamo cosa c'è hai visto come grande sto posto la gargia oh impressionante ma armerie niente ci stanno qua eeeh munizioni armi in giro si trovano eeeh bisogna dare un'occhiata perchè è veramente grande e quindi eeeh poi i zombie non è che ce ne stanno assai oh ci stanno munizioni per il fucile quello la non lo so chi ce l'ha questo non ce l'ha ancora nessuno adesso come lo troviamo altro zombie sbuggato qua eeeh qua è un duo chissà dove porta qua eeeh dobbiamo interattivare degli interruttori c'è qualcosa di da si ma qua non parteva niente qua è niente no ma la server server eeeh di steam guarda vado a prendere a gg youtube c'ha degli hangar non è che ha dei server munizioni fucile a pompa qua axel per te ah ho trovato l'interruttore forse da attivare eh qua nella sala server venite qua nella sala server allora qua dove sto io qua 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 dove sono io axel dov'è che viene pure ah axel è qua dov'è l'interruttore va vai di a destra sulla destra che faccio a destra a destra che faccio ci piacciono ragazzi si 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 è accesa la luce c'è qualcos'altro c'è qualcos'altro no allora mo possiamo tornare ok ma che fa questo che fa che fa qua eh l'ultimo l'ultimo che vuol vuol aprile e dobbiamo tornare ora si sono sbloccate le le sara cinesche eh messaggio aspetta messaggio 2 ah attiva il generatore si sbloccano ok bussano eh ha detto chi è ho detto eh ho detto ho detto tutte queste stanzi ma let's close this door qua qua ho trovato io munizioni per la pistola ah eh così devo trovare anche tu qualcosa perchè bisogna guardare anche i scaffali eh qua nascondono bene questo qua il tragitto è ancora un altre munizioni qua ho trovato qua 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 giù giù ah una testa eh prendo io per sicurezza va tanto ho altri 3 slot liberi occhio che sta poi in trappola gg eh ooooh è che qua arrivo 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 da dietro arrivo gg da dietro e ma chi l'ha invitati questi oh 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 loses ha�� ha cd ho trovato In fondo? Dove sei? In fondo Ok Com'è che si faceva la kill da dietro per gli zombie? Con la V Ah con la V, vero Ti metti dietro, gli dai una caponata dentro il cervelletto Guarda com'è il riflesso della luce al buio Ma in fondo siete andati no? Eh in fondo ci dovrebbe essere il Gigi Provato qualcosa nelle stanze? Eh una chiave inglese, solo una chiave inglese ragazzi Andiamo su Anche qua a destra? Sì sì Ok Madò che si sia stancato sto pizzaiolo Pure di mangiare pizza è ingrassato Vediamo se c'è altro fish Oh oh, e voi che fai? Madò ho visto lo zombie che si è buttato dalle stanze Parola Che fa c***o? Ho trovato vaccine Ma ti segui che gli faccio la kill da dietro Guarda, zacche te Aspire controllo qua Aspetta che ci stava un altro Arrivo Oh ho ho Gli ha tagliato la testa Niente negli uffici? Ma avete controllato tutto? No, stavo impegnato a guardare gli zombie Ma come stai messo a munizioni tu, Gigi? Eh ne ho 20 ma vado ancora bene Vado ancora bene, cerco di ottimizzare Let's close this door Ho trovato una scheda rossa Io c'ho la scheda blu Vieni qua, vieni Dove sei? Qua qua Quale ha? Munizioni Scheda rossa, che assente? Eh sì Tu c'hai spazio? Io sì Questa sta? Qua qua Arrivo Perché c'ho la magno C'ho la bomba telefonica Eh non me la fa prendere Forse perché ho la scheda blu Eh aspetta, allora lascia la blu Questa qua, prenditi tu questa Vai No, lascia la blu Gigi ce l'ha la blu o no? No, io ce l'ho la blu, quella di Gigi Me l'ha data a me Allora prenditi anche questo Mentre Stanno arrivando zombie Ah, quelle gialle sono solo Ok, fatto Spiegati le altre di nuovo Ah, ok Dove? Vedi quella della Oh Bezza Voglio te farvi seguito No da ieri Che tu Provaci te Mamma Gli ha spappolato la testa Qua c'è una porta con un'entrata rossa Guarda qua, guarda qua Dove? Qua Ehi, ci sta una cosa rossa Ce l'ha Gigi Gigi, che qua? Arrivo, arrivo Troppo c'ho anche un coltellino in bagno Il coltellino svizzero Dove sta Gigi? Sono qua nei bagni Perdo la mia Infatti ho trovato anche Le B5 Le munizioni me le sono prese Che mi servivano Ok Dove sono? Dove siete? Fa di non giù La centro Fa, va, va Sta una porta con un tesserino rosso qua Vedi se fa qualcosa Oh Oh Allora ci sta un'altra porta blu Oh, l'avete usata già Si è aperto questo Eh sì Ecco le maschere Maschere? Si Oh, medikit Lo userei io Aspetta un attimo Ehm, non lo so Penso di no Vai, metti la maschere Vabbè, io ho andato lo teno Ah, ma c'è bisogno di uno slot libero, allora Sì sì Ma parla Hell no Hell no Hell no Hell no Hell no Hell no Ma le maschere servono più avanti o... Mi piace che la lascio proprio così, vel No, mi sa che saremmo solamente per un momento Poi bisogna ritornare indietro da qua, no? Ma no Sì sì Siamo tutti e tre? Ok Attiva Premi Io non l'ho presa la maschera Vabbè, pazienza Va bene, no Ma tanto Passa dentro sulla ventuno Quello stanzione Deve essere Vabbè Ma il tatuaggio si vede bene, Oromo Oh, di qua si apre Oh, ragazzi Aspetta L'azio Non è meglio Ti tirate una bomba Guarda La tiro Ma dai Non mi fa rientrare stu No, aspetta Devo farmi di nuovo tutto il giro Di nuovo Eh, la madonna, è che Eh, tornate indietro, ragazzi Eh, veste cazzo di cose Vabbè, vabbè, è morto Poliziotti Ora fai entrare dentro le camere a gas Aspetta Sono un po' troppi zombie Ho il Winchester Chi è che c'ha le munizioni? Chi lo vuole? Io pure ne ho trovato un paio Finito Dove sta il Winchester? Ho sta Magnum che ha finite le munizioni Eh, c'ho pure queste Munizioni Winchester ce l'hai tu, forse, Axe GG Allora, ce ne ho io Tutto a me, da piglia tutto quello che vuoi Io piglio questo La munizioni ma Qualcuno riguarda la Magnum Allora, aspetta Butto questa Riprendo la Magnum La scheda blu L'avete utilizzata? Sì, all'inizio Allora, non serve più Ora la butto Per sicurezza la butto qua Almeno sappiamo dov'è Axe, sono entrato nello stazzino Con la gas Con il gas Oh, il martello qua Chiara, con quello gli spappoli la testa Ah, qua ci sta un'altra stanza col gas, GG Sì, guardo le altre Ma il cellulare non dice niente Dobbiamo farlo Ah, c'è un obiettivo con una distanza C'è un codice 0451 Ah, abbiamo trovato il codice E allora possiamo andare Eh, GG Per l'arma primaria La pistola La SIG Sauer Quella nera Ci sono munizioni Quale vuoi? Qua, qua Ma la porta col codice dove sta Vediamo qua che c'è Qua La maschera me la tolta Ok, intero, ho trovato un altro Winchester Ui, raga Come faccio a togliere la maschera? Non mi ricordo, Axel Premi per sparare Con la... Sul simbolo della maschera Sembra di no La posta è un buono Ma qua è mostruota Fantastico Ma... Non c'erano mezzate delle munizioni ancora Winchester? Oppure avete... No, io sto pieno del... Winchester sarebbe il fuggito a pompa Ah, qua, qua, GG Qua, delle munizioni che mi hai lasciato Me ne è rimasta una in più Qua Forse era questa la stanza dove mi hai dato le munizioni Non mi ricordo Ah, sì, ecco Che a terra ci dovrebbe essere Andiamo Ecco, ho trovato un altro barco di... Guardi, cerca sempre di... E anche questa parte qua mi sembra che non l'abbiamo fatto qua? Eh, tutto al contrario Ascensore Ah, sì, sì Oh, Vendere, adesso qui viene una parte bellissima Schiacciatole interruttore Beh, caso che... C'è la pompa solamente se carminece Ah, già qui Guarda, guarda la barba in faccia che c'è Vendere Ah, bella l'abbè Quel paninazzo dietro, Larry Steater Oh, già sta qua Guarda che effetto qua, beh, è il dici Ma a me è piaciuto Guarda quello zubbic che arriva dal... dal fulguric Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda, guarda fishing metti il telefono che fanno qua? che fanno qua? sto facendo guardate, c'è la gente guardate, c'è la gente guardate, chi no? mai visto il cerchino in escape eh A k Non so se prendere il cecchino o cosa Sì 1 2 1 Si, si, si Si, si Si, si Si, si Si, si Questo sembra quando quello scienziato Nella prima stazione gli spiega l'infezione E' vero, yes I'm here Here I am Ma si vede Axel, la vedi la torcia attraverso l'acqua qua? Si Si, si E per far funzionare questi schemi qua ci vogliono 8 schede grafiche Cioè 8 GTX Pregick ahahahahah 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 che marca suono? vediamo un po' ci legge la marca come? contagio? rom la doppietta del nonno la doppietta del nonno oh, è nello stanzino qua che ci stanno oh, veniamo vedere queste mattonelle dove sei? alcune queste qua alcune queste nere prendiamoci oh guarda che effetto c'è un po' queste nere e queste più chiare pure vedete il riflesso dei neon è vero, è vero, è vero, adesso ci sono un certo caso, ma anche su queste qua, su queste qua, diciamo, aggrigliate guarda, tiene la luce accesa ok, qua c'è sangue dappertutto oh, mi sembra che dobbiamo andare di là al centro al centro, vieni a vedere qua, è già arrivato ebbia in Val Padana allora Ah ah, non hai detto la parola magica? Ah 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 Vai figliari tutti, Venter Venter, poi non c'è un altro ventiti da qui e poi non c'è contigo di un po' la re Stato su qua Stato su qua mira verso un po' caldo Io alla tua destra Ah no, giri completamente alla destra Perfetto Ok, ok, io pure Eh Ah 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 Adol Oh Oh E' fucile! Oh, fai a dire, fai a dire Che è un gol Guarda che è un gol Es compas, a ver, salta, salta Ok Here I am Ok, adesso Bet Guarda l'effetto del sole, guarda Eh, bello Preparito Ho chiamato el helicostero No I'm going to break your god damn neck By god, there you go Ok 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 I can't land if there's a threat Lock down the roof and kill all zombies or I'm leaving Ok I'm going to activate the full start Eh, but we have to kill them Ok I'm going to explode Ok 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 Ok, ok. Sì ma che non abbiamo trovato la scheda rossa Ma che dobbiamo aspettare Ah possiamo andare Bella questa marfa Raga un attimo arrivo, 5 minuti Grazie a tutti